C'è riconoscenza dal punto di vista della fanpage e della fanbase che comunque devo dire è rimasta sempre stabile quindi comunque mi conoscono e devo dire sono pure amato. La cosa mia è che sono molto amato ma sono anche parecchio odiato. Vabbè perché l'hai detto prima sei uno che ha fatto molto parlare quindi la tua cifra era anche l'esagerazione o la provocazione. Quindi comunque sia.